Profumata, leggera, super golosa, questa crostata al limone farà vibrare le vostre papille gustative. E vedi che ti mangi! Scommettiamo che andrà a ruba? Prepariamola insieme! Per la pasta frolla in un mixer uniamo il burro freddo di frigo e la farina. Frulliamo il tutto fino a ottenere un composto sabbioso. Trasferiamolo in una ciotola e uniamo un pizzico di sale, il lievito e lo zucchero. Mischiamo bene il tutto e aggiungiamo la scorza grattugiata di un limone e un uovo. Iniziamo ad impastare nella ciotola, poi trasferiamoci sul piano di lavoro e continuiamo ad impastare fino a ottenere un composto omogeneo e uniforme. Formiamo un panetto, avvolgiamolo nella pellicola e mettiamolo in frigo per almeno un'ora. Prepariamo la crema al limone. In un pentolino uniamo lo zucchero, la fecola di patate e la scorza di un limone. Mischiamo fino a ottenere un composto uniforme ed uniamo l'acqua a filo. Continuando a mescolare con un cucchiaio fino a ottenere un composto omogeneo. Trasferiamolo sul fuoco e lasciamolo cuocere a fiamma bassa girando continuamente fino a quando non inizierà ad addensarsi. Ci vorranno circa 5 minuti. Lasciamolo raffreddare completamente girando di tanto in tanto. Quando si sarà raffreddata aggiungiamo il succo dei limoni e un uovo. Amalgamiamo fino a ottenere una crema liscia e omogenea. Non ci resta che stendere la frolla fino a formare un disco sottile e omogeneo e foderare la tortiera, precedentemente imburrata e infarinata. Io ho utilizzato una tortiera a cerniere apribile del diametro di 24 cm. Eliminiamo la pasta frolla in eccesso e buccarelliamo il fondo con i rabbi di una forchetta. Trasferiamo la crema al limone al suo interno. Con la frolla avanzata ho realizzato dei cerchietti che ho utilizzato per abbellire il cornicione. Basterà un semplice stampino tondo. Posizioniamo i cerchietti di frolla lungo tutto il perimetro e pressiamo con le dita in modo da farli aderire perfettamente. Cuociamola in forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 35-40 minuti. Una volta fredda decoriamola con zucchero a velo, fettine di lime e di limone, un po' di scorza di lime e qualche fogliolina di menta. Già solo il profumo metterà la colina in bocca. Riponiamola in frigo per qualche ora prima di servirla perché andrà gustata ben fredda. È talmente buona che sparirà in un lampo e vedi che ti mangi!